per culo e dito tempiato del cazzo taglia squid di sabò non c'è il clarinetto voglio fare una domanda paga i sordi se vuoi fare una domanda paga va bene ti faccio una domanda dopo ti pago eh sì prima dare poi la storia con giugno a kelly lelly kelly no io sono fratellino meso ma messi lelly kelly e i piedi sono versace nike roba seria roba limited edition a roba che non so ma che te piscesi i piedi di fratelli quando va al bagno e chiave di da ciai e mutande corberso gialle davanti e marronite dietro che ha fatto fratelli di ma me perché te lo del culo che c'è le moroidi che televisi del piano quando ti metti a mangiata o la capa mettete il piaccio al culo se te lo del culo fratelli che ha fatto un piatto di merda che hai detto un cerbiatto perché c'hai le corna ma che ma che tesi in culo fratelli quelle saranno saranno i corna di famiglia una corna guardati la testa babbo vedi a te preoccupa oggi di entrare sentato che te lo del culo che ha fatto a tese vata pipetta per me ti metti pure foto su instagram e io faccio i miei pipette chi ha che insegna i pipette che c'è da che c'è da vergogna se vede lì c'è starmi voglio scuogli al cazzo porco di me sa bene di galli sulle mani sa bene fratelli che sa quarantena che ha fatto che c'è c'è da vergogna se mica un famiglio tau no però il brasile più rispettabile tu metti la foto su instagram è una merda a basi questa testa se te vuole veder cazzo lo dico io c'è lo piccolo non è vero ma vedi che testa difende si è innamorato sto dicendo a te che cazzo stai dicendo in una famiglia l'omosessualità oggi è ben accetta qua stavo nel 2020 fratelli molto probabilmente entrano più omili sessuali ma mica ci stanno problemi o anzi ma sono a cercare al giro bello per capire un pochino ti sei innamorato pure di me ma che cazzo stai dicendo e sa che che fai tu lo lascia assoluto stavamo tre bene c'è due senza tre no e il quarto vien da se mi distorio ma che ti distorio io ho un culo io sa che come ce l'hai il culo ve lo so liscio sa per l'orso mortacci di tua che schifo cosa come scrocchia lì mortacci mamma mia gli scordi al culo come una chitarra a brasilia c'è la chitarra al culo questo c'è un'arma proprio bella bella sub telecom italia si è scritto a mettere sab sarà roba che ha fatto dei squinti di stati zitto stempiato coglione mamma mia vale lì 20 anni bel pari un 38 n bel cavato fratelli sembri un trentenne 34 anni allora non mi fa conosciuto male manco lei di piglio è assurdo ma chi fa ne lì di chi sta a parlare oh sei troppo brutto di mia madre mamma lei ti prendo ma non c'ha ancora ma per niente madre sto coglione di merda quanti hai amiciato più di voi t'ha fatto la vecchia per questo sei mezzo marcio fratelli che cazzo vuoi a figlio di puttana ma stardo cagato per forza ronde il cazzo che ne vuole il fronte in cazzo ha detto ma c'è una chiamata porta asia e non posso scemo de guerra leva un po na via asia e saluta brasiliano sentite stiamo aspettati e poi entrato su stiamo in diretta su twitch se volete però io ieri ho fatto una diretta però c'è uno di sordi che sta imballato ha detto che te sbanna tutto trova il modo di farti entrare dici dice vai 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 tranquillo ascolta tu mandamelo in caso io entro più tardi ok va bene se entri ti aspettiamo ok ci siamo ciao ciao ma tu lo sai che io non ti lascerò a fare lì mi mandi il link su whatsapp che qua un problema adesso non ti mando ma come costa io calcola per colpa di ah obbio da te obbio da te a me di come fa veloci ormai dopo che l'abbiamo insultato è velocissimo è vero dopo che l'abbiamo insultato di morti è velocissimo ti sei cagato sotto eh ok avevamo fatto il vietto c'è un po' per Torino la città di Milano mamma mia abba sì che stamattina se lo piavo te lo accartocciavo te dico fermate oh fatto di dar Brasile stamattina che ne so mamma mia ai sette e messa dico questo sta al trippato pratico ha fatto nottana ma la prima domanda è stata fratelli ma te usi qualche cosa o stai così è naturale no io ti ho detto qua quanto te sei rippato o stai normale o stai lucido ma ha detto no sto lucido e come fa sta sveglio fino ai sette e mezza della mattina oh è perché stavo avvelenato c'ho quella rabbia proprio e poi comunque chatte erotiche durante la sera videochiamate cazzo di fuori e vai ma caldo cazzo eh sì per forza dai eh che poi tra l'altro mo la presentiamo eh mi ha detto che sarà ospite la tua ragazza fra qualche giorno eh certo mo se divertì mo lunedì lo sai che succede il macello proprio la macedonia famo ah non vedi che è entrato che spettacolo quante amici hai piccolo? quattordici eh beh già te trovi fratelli no 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 ma da che zona sei? eh dell'Umbria ma dell'Umbria sei? sei il cuore dell'Italia ti posso fare una domanda ma tu a quattordici anni perché devi sfocire il progresso te no a Basile baffanculo ma che c'hai contro te me è da stamattina che mi stai zuttando e lo seguono i miei grazie ma tu segui a lui o a me? a lui tutte e due no 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 il Basile non lo segui 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 è infame e fracico molto ma ha denunciato l'altro giorno perché gli ho dato il numero eh sì mi hai dato una denuncia stamattina io in vita mia manco quando mi hanno rubato il motorino per sbaglio ho denunciato la verità stai a confessare gli hanno levato il motorino al brasiliano domani scanta sotto casa ho ritrovato il brasiliano si è fatto fare la prepotenza lo confessa lo confessa lo sta confessando gli hanno levato il motorino da bambino non è possibile Nicolás e allora che c'è da dire fratelli cucciolotto bello mio sono contenti amici tuo che sei entrato in diretta che stai a parlare con noi eh mezzo da sì che stanno faccia la foto fratelli vai faccia questa foto fratelli dai guarda quanto sei bello su mamma mia ma pari rospo fa un po' crac 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 se lei usi cicali 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 ospetti farò o assumptions ho un saluto in ferrupe oh bello fratelli non fuma più eh non fuma che te fa male santa copra santa scrive con attite meno però non te sbagliavo come è stata assoppa il cognome in 2.500 te dico fermate ma se si correttini al giro edellino comunque ma se volete qua una foto al posto della camera per far vedere un attimo una cosa no 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 solo che ha fatto sta proposta delle panna affanculo scuder mese tutta casa preparata bene casa fratelli non vedi st'ambarsamato guarda che c'è stanno a quasi modo che ha fatto fratelli guarda che gobo sanna c'è stata campana a fratelli casa la terza metti la quarta e batte n'affanculo ma vale cappella fratelli il cazzo candito e quindi l'hanno operato fa più sesso fratelli intese fatto due domande per io scopo e te no no e non so dio ma questo non è quello ma questo che faceva i controfigure delle cose dei scimmie la è come si chiama quel film il pianeta dei scimmie è lui ma noi di che schifo portaci c2 che ha fatto su san cartato come una colia ma noi questo saguercio con pelo de cazzo qua sotto a valli hanno fatte qua barba ma che ha fatto fermati o ma noi di guarda che san diretta fratelli rispondi fratelli ma che sta ruba argenteria a casa di qualcuno che ha fatto con sta faccia da ladro non ti stai volando con me no con quello di dietro fratelli ma noi di che porta chiavi baserati del 2001 prima di parlare pulisce date fratelli che c'è un po' di merda quasi i denti non sa vedi fratelli stai avendo la mani pure però che te vieni sta sputa dentro casa fratelli non si fa dai stai diretta no se c'è questa voce un po fa niente 10 euro fratelli grazie al cazzo è una questione del sentimento quando senti grazie al cazzo